Un altro giorno di ricerche di Marco Cibin, 90 anni, ospite della casa di riposo San Gaetano di Crespino, dalla quale si è allontanato, secondo le prime ricostruzioni, nella giornata di giovedì mattina in prima mattinata, senza più fare ritorno e senza più essere visto. Fatta eccezione, pare, per Piazza Fettonte, dove sarebbe stato visto poco dopo. I suoi effetti personali sono tutti rimasti nella casa di riposo. L'elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato tutto il corso del Po, dal Delta sino a Guarda Veneta, addirittura più a Monte di Crespino, come misura di sicurezza, ma nulla è stato trovato. Sin da quando sono stati chiamati in causa, i Vigili del Fuoco non lesinano alcuno sforzo per venire a capo della scomparsa. Hanno insediato un comando avanzato in Piazza Fettonte, che funge da quartier generale per le squadre impegnate, a corse e in forze, con grande spiegamento di forze, col supporto dei cinofili, dei sommossatori, dei carabinieri, della protezione civile e di tanti volontari che si stanno adoperando per cercare di fare in modo che vi sia un lieto fine. Sono in corso anche le ricerche, oltre che sul terreno e dall'aria, anche via acqua, con il personale dei Vigili del Fuoco che, in gommone, perlustra le sponde del grande fiume, dotato di ecoscandaglio. Purtroppo, infatti, dopo oltre cinque giorni dalla scomparsa e senza nessun avvistamento o segno di vita, non è possibile escludere un gesto estremo, anche se tutti, ovviamente, sperano che l'epilogo non sia questo. Marco, da chi lo conosce bene, viene descritto come una persona che, nonostante l'età, era davvero informissima. Curava il proprio aspetto fisico con passeggiate e ginnastica, leggeva molto, si teneva sempre molto curato e si faceva notare per la propria eleganza e il proprio abbigliamento impeccabile. Aveva, come tanti anziani ospiti di strutture, patito in qualche misura le restrizioni derivanti dalle cautele contro il Covid, ma partecipava con entusiasmo alle iniziative organizzate dalla Casa di Riposo.